Eccolo! Ciao, facciamo sti autografi così non ci pensiamo più. Ma dove vanno tutti? Chi è che mi sta sottraendo i fans? Nessuno è importante come un cliente Vodafone. Ecco perché solo con Vodafone ogni mese hai un premio con la tua ricarica. Vieni in negozio e scopri il premio di aprile. Ce n'è un'altra! Grazie!